Partirà a breve la nuova sfida complessa sulla nuova campagna di raccolta differenziata per il comune di Castellabate. E' stato presentato infatti alcuni giorni fa tutto il piano. A parlarcene nel dettaglio il RUP nella persona di Francesco Loschiavo. E' una sfida complessa che partirà sulla carta il 24 febbraio ma che in realtà ha avuto origine già da un biennio a questa parte. L'appalto è iniziato all'inizio di gennaio 2018, il contratto è stato stipulato a novembre e il servizio è stato già avviato in via d'urgenza dallo scorso mese di agosto. Quindi nel pieno del carico delle presenze turistiche di Castellabate. Dicevamo un lavoro impegnativo, duro, l'operatore economico che si è giudicato alla gara sulla base di un progetto fatto dall'amministrazione comunale avrà un'attività intensa, un'attività che è caratterizzata durante i 12 mesi dell'anno da diverse calibrazioni del servizio. Noi partiamo con i mesi invernali dove il carico è un po' più leggero e man mano che ci avviciniamo all'estate la forza lavoro si rimodula in base alle presenze turistiche sul territorio. Abbiamo attività che fanno da 2.200 ore e mese di lavoro delle squadre da 17 a 33 persone quindi da 2.000 ore e mese a circa 4.000.